forse ho preso più brutta niente come non ho tempo a fare video non ho wifi e bla 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 ho scritto una cosa che mi piace mi piace parlo di trasferimento a brescia dalla brescia a sud quando ci siamo trasferiti il mio trasferimento al sud ad essere sinceri non ci ho mai pensato molto su cosa potrebbe essere o se mi conviene o deve cazzo sta la calabria il mio amico bresciano doc quando gli ho detto dove mi sto per spostare mi ha guardato in un modo spiezzato e preoccupato non mi ha fatto una buona impressione la mafia il fine del mondo lo sai dove calabria no dissi ma non mi interessava brescia era ormai un posto invivibile per tante ma tante scene della film pauroso trascinandosi nella totale distruzione trascinandosi pura apocalissi nostra unica possibilità di salvezza come inocente pensavamo era il trasferimento ogni calabrese piazzato nella grigia penombra costante della meravigliosa pianura padana alla fine ha un unico desiderio profondo tornare a casa air ha ottenuto finalmente dopo anni e anni di sacrifici la risposta positiva sulla sua annuale domanda di poter tornare finalmente dopo 30 anni di servizio come professore di fisica nella sua terra promessa oltre le convenzioni pratiche soprattutto affitto ma anche troppi bar in giro ma poi al sud ma poi al sud c'era quella splendida casa in compagna in compagnia del tramonto ogni sera voleva se era tutto solo abbandonato voleva tornare finalmente dopo sto cazzo di freddo in ver inverno di freddo in inverno dove una volta per andare al supermercato lontano dieci minuti ci siamo messi un'ora in macchina sotto la burasca di neve dove la gente non ti guarda nei occhi dovete subito chiedere se hai permesso di soggiorno e lo farebbe anche con quelli del sud se potessero la presenza della repubblica di salò circola ancora nello sangue del bel pulsante voleva tornare là dove ha lasciato i sogni suoi e la sua gioventù profumo dell'ioio la sua famiglia crack ups come commenti dei fumetti se conoscesse la sua famiglia non farei mai questo passo ma potete crederci o no l'angelo mi ha avvisato parecchie volte di non andare ma se ci credete o no io non credevo negli angeli io avevo il mio amico storico e come sono molto fedele nella amicizia e altrettutto andavamo talmente d'accordo non vedevo necessità di non obbedirlo si chiamava ego e anche se alla fine lo sappiamo già siamo alla fine del racconto tutto ha il suo perché può essere più assurdo può essere più assurdo più doloroso più incomprensibile il nostro viaggio c'è sempre il motivo qualche il perché quindi pensandoci su lo scopo della vita come era il nostro compito a fanfano e dove ho scritto il senso della vita è essere contenti con se stesso e con gli altri apprezzare delle piccole cose ora potrei cambiare il senso della vita è semplice segui la strada dove ti porta è sempre quella giusta magari farei lunghe camminate perdendosi nella scorcia le strada e le stradine ormai impossessate dai rovi pungenti ma tu vai perché questo è la tua strada questo è il senso della vita andare non è la tua strada Grazie a tutti